Ma lei Gazzischi è una vittoria preziosa in rimonta, insomma stasera Monza ha dato parecchio fastidio però voi nei momenti che contavano siete stati sempre molto lucidi e chirurgici. Allora sì molto preziosa soprattutto visto la difficoltà che abbiamo avuto. Complimenti per la squadra adversaria perché secondo me sono in un momento di difficoltà e hanno fatto vedere una palavolo in ottimo livello anche con dei problemi che hanno. Sono molto contento che siamo riusciti a scamparcela perché oggi dopo il primo set la vedevo tosta, siamo stati veramente bravi in alcuni momenti proprio giusti giusti di fare un filotto di punti, di andare in vantaggio e di giocare tranquilli. La cosa ti è piaciuta di più a parte la vittoria? Beh secondo me è stata una gara molto combattuta anche se il risultato non lo fa vedere perché 3 a 1 non è proprio il 3 a 2 classico di tre ore quindi sicuramente un po' falsato dal risultato però molto combattuta e io sono contento che alla fine ce l'abbiamo fatta. Grazie Grazie